La tua azienda a portata di mano? Con l'app Fatturazione CGN tutto questo è realtà. La comodità di velocizzare il tuo lavoro direttamente dal tuo smartphone. Con l'app Fatturazione CGN ricevi una notifica in tempo reale ogni volta che ti arriva una nuova fattura. Hai sempre a disposizione le fatture che ricevi e le ricerchi facilmente nella sezione Documenti ricevuti. Inoltre hai sempre sotto controllo i dettagli delle fatture e le condividi facilmente con chi vuoi. E hai la sincronizzazione immediata dei tuoi contatti salvati nel servizio Fatturazione CGN. Ma le novità non finiscono qui. A breve e direttamente dall'app potrai anche creare e inviare le tue fatture. App Fatturazione CGN. La tua azienda a portata di mano.